In diretta anche con l'altro attaccante in gol, oggi ci mancherebbe solo Boccardi, poi magari forse vediamo se lo riusciamo a recuperare. Finalmente in campo, è stata una tenerovella lunghissima, ma anche perché a Grosseto le cose senza polemica non funzionano e non esistono probabilmente. Non so come l'hai vissuta esternamente questa attesa di giocare. Allora dici intanto come l'hai vissuta questa necessità di dover aspettare il transfert a lungo dall'Irlanda che non arrivava. E' questa tua necessità, questa voglia di entrare in campo? Sì, sicuramente. Sinceramente non mi aspettavo di aspettare praticamente quasi un mese. Un mese ho saltato tra partite Coppa e campionato sei partite, quindi non vedevo l'ora di rientrare in campo. Deve dare qualche contributo alla squadra, per fortuna è arrivato per questa settimana un esordio così. Bellissimo, perché ritornare alla vittoria in casa facendo tre gol prendiamo entusiasmo, prendiamo fiducia su di noi e quindi sono contento. Si è parlato tanto di pressione della piazza, di critiche anche dovute al fatto che Grosseto in eccellenza si sente effettivamente un po' stretta dal punto di vista dei tifosi. Tu che di esperienze ne hai vissuti di ben altro, di ben altro livello, hai vissuto in piazze molto importanti, anche come la Sonia Giovannese è una piazza molto calda. Dal tuo punto di vista c'è tanta pressione, si sente l'avvertita allo spogliatoio tutta questa necessità di dover vincere in queste settimane? Sicuramente la squadra è stata costruita per vincere il campionato, arrivare ai secondi qui non sarebbe quello che vuole la società, che vuole la piazza. E quindi la pressione ci sta perché dietro abbiamo una piazza importante che vuole salire, che vuole fare bene, c'è 1300-1400 abbonati in eccellenza, sono poche le piazze che fanno tutta Italia. E quindi la pressione ci sta, ma allo stesso tempo dobbiamo essere bene, la dobbiamo buttare dalla nostra parte questa cosa perché giocare in eccellenza con tutta questa gente ci deve essere un plus e non una cosa che ci resta. Dal punto di vista, visto che stai già allenandoti da diverso tempo, fisicamente intanto ti chiedo come stai, se devi ancora migliorare e limare la forma atletica. Un giudizio sui compagni, a che punto stiamo dell'opera, questo grossito quanto può migliorare, visto che ho chiamato prima con Nicola Giallini, abbiamo parlato un po' di miglioramenti, anche Mario Ceri ci ha detto che questa squadra può ancora migliorare un po'. Te lo chiedo a te che sei sicuramente uno dei giocatori più esperti del gruppo e che dovrai anche guidare un po' i ragazzi in questo campionato di eccellenza. Io penso che dobbiamo migliorare perché così in pratica abbiamo tutto il campionato davanti e dobbiamo migliorare di tanto, lo dicevo prima ai colleghi, dopo il secondo gol ci siamo fermati e penso che il secondo gol ci è stato dopo 15-10 minuti, praticamente abbiamo giocato 20 minuti che non ci si andava più in avanti, non si spingeva. Queste cose, questi errori non li dobbiamo fare più, sia in casa sia fuori casa, sicuramente si stai vincendo 1-0 e ti mettono sotto, è normale che non vai più in avanti, però mi è sembrato da dentro il campo che ci siamo fermati, sicuramente un po' la paura perché non si vinceva da tanto in casa, però penso anche da fuori si ha visto un pochettino che non si sciocava più, si perdeva delle palle che il primo tempo, mi è sembrato che la partita che abbiamo fatto il primo tempo era molto più aggressiva quella del secondo tempo. Sono cose che non ci dobbiamo permettere da qui in avanti. Per esempio il Cenaia c'era Parzo che era partito meglio nella ripresa, poi è arrivato il raddoppio di Boccardi, un altro giocatore che magari è anche fuori categoria, da quel punto di vista poi siete sbloccati? Questo può essere davvero la partita della svolta, cosa ne pensi? Secondo me quando abbiamo fatto il secondo gol era il miglior momento loro, quindi siamo stati fortunati in quel momento, perché è da lì in avanti, ti devi sciogliere, devi andare, invece noi ci siamo contratti di più e abbiamo rischiato di prendere anche un gol, perché queste cose non le dobbiamo fare più. Quindi insomma c'è ancora parecchio da migliorare dal punto di vista, le potenzialità penso che ci siano, un attacco di tutto rispetto, siete in tanti, oggi è rimasto fuori i coli, però una cosa che vi accumulo tutti quanti, il tifo sotto la curva alla fine della partita, è stata una prima emozione, un bel bagno, che impressione ti ha fatto anche questa coreografia, questo tifo bianco-rosso a fine gara? No, è stato bello, infatti me lo aspettavo, conoscevo la piazza, quindi sono contento, sono contento, speriamo che la gente prenda entusiasmo, che ce l'ha già, ma sicuramente lo prenderà di più se noi riusciamo a portare più vittorie a casa. Allora ti ringrazio Walter e continua così, mi raccomando, perché qui c'è, sennò c'è polemica tutte le settimane.